senti che è sto pezzo però non si può tenere perché fa la copyright e allora questa è la musica mica la trap, mica la truppa, mica l'intruppo quella è monnezza questa è la musica che a distanza di 40 anni ti voglia solo di metterla a palla però fa copyright, allora ti bloccano il video ti segnalano su Utah ti peggiorano il profilo e allora lo sostituiamo con Exhaust, l'Exhaust non fa copyright l'Exhaust viene dal prodotto italico è fatto a maranello butta fuori da quelle quattro bocchettone di dietro, non fa copyright non dà fastidio a nessuno e se non dovesse un male Exhaust non fa copyright Exhaust, guardalo lui ma fa copyright io la vita, tutta la vita